Buongiorno! Buongiorno amici di Kikri, buongiorno e buona vigilia dell'Immacolata a tutti! Oggi puntata venerdì 7 dicembre qui ad Altamura e vogliamo fare una puntata diversa, visto che tutte le televisioni nazionali, televisioni locali sono imperversate da trasmissioni dello chef, grazie, quattro ristoranti, Masterchef, Cucine per Casa, Curitura, come si chiama quell'altro, Chef Rubio 4x3, addirittura pure i nostri colleghi amici Telenorba fanno l'angolo dell'arte culinaria e anche noi non siamo da meno, infatti come potete vedere qui ci sono dei funghi, io ho funghi così buoni, si dicono anche belli, non li ho mai visti, quindi questi sono cardongeli originali, non quelli di, come dice un mio amico, di Walt Disney, quelli di Plastia, quelli sono funghi, allora questo è il viagra naturale, ti mangi un fungo di questo e vedi che diventi un toro, come diciamo il proprietario che adesso tra qualche minuto lo inquadreremo, quindi sono veramente funghi, senti che profumo, questi sono i funghi della murgia, murgia altamurana e se permette anche materana, perché noi siamo cugini murgiani, materani e altamurana, quindi siccome domani è l'immacolata, quindi l'ingresso per le festività natalizi e quindi le donne, le mamme, le signore altamurana e materana non hanno ancora deciso su che piatto preparare domani, perché domani, lo so, si fanno le pettole, si fanno le cartellate, però diciamo a livello di pietanza, di primo, un primo che fa freddo, un primo sostanzioso con prodotti a chilometro zero, diciamo prodotti della nostra terra, che possono essere i funghi, allora io, diciamo che sono un neofita, non ne capisco, mi rivolgo al re, all'imperatore dei funghi di altamur e della Puglia, il mio amico, il mio amico, buongiorno, buongiorno, e quindi... I telespettatori di Canale 2, you are my friends, e dobbiamo salutare tutti i miei fans, M.M.Fair, Nicolo Gattopart, tutti dintorno, tutti i miei fans, quelli in Bari, in Modugno, tutti i miei fans, Mater, Gravin, in New York City, fino a New York City, noi sono da voi. Mi ricordo, solo una cosa, mi devi scusare, non ho portato una bella ragazza oggi, perché... Erano tutte indisposte, avevano il ciclo. No, no, il problema è così, non ci sono problemi per le donne, perché qua basta fare così, insalabin, prima di essere una febbre, capito? E vogliamo provare, simsalabin, è uscì, buongiorno signora, è uscì, però diciamo che non è... No, va bene, va bene, ok, comunque io ho avuto modo di vedere questi funghi, che sinceramente non li ho mai visti a nessuna parte, cioè i funghi che c'erano, ma guardate che funghi, guardate che funghi. Sono funghi spettacolari, sono naturation, di madre natura, da la mogia a noi, che è tutto il pubo, questo, vedi quanto è bello, questo qua. Non lo dire, sennò vengono gli altri e ti fregano... Ma aspetti, come la funghi fumo? Quindi giustamente questi non sono... Quando le persone dice ho fatto 10, 12, non esco ma a Stato Moez, hai capito cosa diceva Stato Moez? Provate per credere, è tutto vero. Ma non sono i funghi di Walt Disney questi, di gomma. No, no, non sono quelli di gomma, sono i funghi veri della nostra murcia. Allora, adesso fai fin da che dentro la telecamera ci sono le casalinghe, le signore che domani, che è l'Immacolata, devono preparare, diciamo, una pietanza dell'Immacolata. Allora, c'è qui lo chef che consigliaci che cosa possono preparare domani. Lo chef per fare stare bene tutti i cittadini di Altamone e dintorni, i funghi fritti, come primo, o sono i caponditi che i funghi, un piatto buono, tipico, perché qua non c'è, questo è tutto spontaneo. Mangi una calda, mangi, con il piatto dell'altra murcia, ho chiesto, o sono o questi o quest'altri. I cartoncelli, la verdura, l'essi al forno con la pasta. Allora, una cosa importante che bisogna dire è che i funghi ne potete mangiare a volontà, perché non hanno molte proteine, diciamo che non hanno grassi. No, no, no. Quindi anche un chilo di funghi. I per mangiare, chiedi, sono buoni, perché sono quelli spontanei. Questi non fanno male alla salute, anzi, noi lottiamo per farli mangiare bene gli altamone. Vuoi spiegare un attimo il segreto dei funghi fritti? Bisogna mettere una padella con molto olio, giusto? No, no, appunto, che fa acqua. In poche parole, se qualcuno ci sta vicino alla cucina, questo qua lo possiamo vedere, è come se cusca l'acqua a saustizia, come lo può. Ah, quindi... E noi anche, certe volte, le donne, no, però, dice, per le case che mi stanno ascoltando, e noi che a metterne, diciamo, tanto, 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 a 10 minuti vogliono fare i funghi, gli devi dare un'ora a poco lento, un'ora e qualche cosa di cottura. Quindi poco olio e poi caccia l'acqua sua, si cuoce con l'acqua sua. Come lo può, però devi stare attento, attento, perché questi sono particolari. Ma conviene mettere un po' di aglio, la cipolla, cosa... Ah, metto l'aglio prima, aglio... Allora, mi do una ricetta. La ricetta della... Allora, prendi l'aglio, se è quello che li vuoi in camicia, è quello senza camicia. Lo fai a pezzi, metti l'aglio, olio e il peperoncino. Ma l'aglio, scusami, l'aglio si mette quando è fritto già l'olio o ha olio... Ma lo fai saltare in padella, lo fai saltare, cioè quello che è il cremino, lo metti dopo e diventa il cremino, a cremino. Quello che non lo vuole a cremino lo metti prima, hai capito, lo fai rosolare. Si mettono i funghi e si mette il coperchio da sopra. Ma lo metto il coperchio, perché il coperchio... Cioè, se tu c'è... Uffa, c'è fritto, 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 c'è fritto. E faccio le cose buone, ci vuole un po' di tempo, c'è un coperchio, faccio tutto l'acqua. Allora, fai un'ora, un'ora, qualche cosa di cottura. Chiedi, 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 allora ti mangio il fungo trifolato, fritto, come dicevano in Alta Muraena, fritto. Perché quindi è una cosa particolare. Senti, poi un'ultima ricetta veloce, per chi non ama il fritto perché fa male l'olio. Al forno, come si fanno i funghi, i famosi funghi al forno, ma anche con un po' di mollica grattugiata, o no? Sì, allora, spiegaci questo e poi chiudiamo. Allora, vorrei dire pure gli altamurani, poi vado a farci quanto è saporito. No, metti al forno, lo fai come una bistecca. Prendi qualche fungo così grosso, lo lati e lo metti al forno. Gli metti peperoncino, sale e olio. O fai e fai. Allora, metti come una bistecca, come la chiananina, quella è una cosa buona. Poi, diciamo, gli altamurani, che è quelli che non mangiano funghi, però c'è un'altra cosa, ci sono tante ricette. Potremmo fare i chiedi, i cartoni di uiazze, i cartoni, quando i nostri genitori facevano i cartoni, i cartoni di carciofo, che facevano così, li bollivano e li facevano pure al forno. Quella è un'altra ricetta antica dell'altamurano. Comunque, posso dire una cosa, il piatto tipico dell'altamurano, lo faccio in menù. Quando hai fatto qualche cosa, tu, mio amico, vuoi fare la fura, una vita d'ora, dal prigio del fungo. Perché se tu vuoi fare la bella figura in tutto il mondo, se vuoi capondino e funghi. O ricettate e funghi. Quello è il piatto tipico. La salsiccia fatta a ponte cortico, adesso vuoi uscire a ponte cortico. Ah, quindi anche salsiccia e funghi? Salsiccia e funghi. Ma scusami, non ho ancora capito, si mette prima il fungo e dopo la salsiccia? Sì, non lo sai perché, la devi mettere prima il fungo, perché la salsiccia, poi facendola troppo cotta, devendo come una città, una città a moe, scusatemi l'espressione, scusatemi, non è etonia. La devi poi mettere un po', 10-5 minuti prima di tirarli i funghi, una volta la città, invece che ti mangio. Non parla perché del mio testo. È un goccino di pepe pure, ci vuole un po' di pepe. No, il pepe non ha un goccino. Il peperoncino, il peperoncino, il pepe fa male, il peperoncino. Vi dico un'altra cosa, che per le altari sono buoni i chicchi del peperoncino, che ti aprono gli altari. Macinati, macinati. Buon te, che ti faccio fare, you are my friend, capito? Io lo mai freddo. Oh, io non volevo fare questo fatto. No, vabbè, nel senso che... Allora, è tutto vero. È tutto vero. Ok, allora, io ti auguro una buona immacolata, una buona festa immacolata. E, amici, voi sapete dove c'è, dove si trova l'amico? Santo Teresa, numero tre. Non ho mai visto, non ho mai visto tanti funghi, cardoncelli veri. Guarda questo, guarda questo. Questa al forno è una chianina, è una bistecca. È una biastecca. Vabbè, qua sono tutti i cardoncelli, poi c'è qualche frevolo, qualche fungo. Devo comprare un chilo? Sì, io devo comprare un chilo. Secondo voi? Allora, poi vedete, ma io li faccio pagare i funghi. No, li voglio pagare, li voglio pagare perché è il tuo lavoro. No, no, no. Io non sono venuto qua per avere i funghi. No, no, è una brava persona. Se io do una cosa, io la do con il cuore alle persone. C'è qualche nuova, è lui, è una brava persona. Viva Matera, ringrazio tutti, Altamura. E tutti che ci scegono di Altamura. Vabbè, ok, comunque, Altamurane, fate presto perché i funghi poi finiscono. Ma scusami, una cosa, la stagione giusta dei funghi qual è? Siamo già fuori stagione? No, no, dipende pure dalla... Fino a novembre, ottobre. Purtro, chiede, una certa volta, quando è buona, arriva a primavera, la stagione che va... Fino a primavera, ci sono sempre i funghi. Buongiorno, signora, è tutto vero? Sì. Può venire un attimo, signora? Signora, ma come mai? La signora ha da fare. Vabbè, allora, in poche parole, la stagione di funghi dipende, perché c'è, dove, delle parti più calde della murgia, ci sono sempre i funghi. Non è che è strancio, però più o pavente. O pavente. Ok, va bene, allora, noi... Quest'anno è stata una bella annata. È stata una bella annata, lo so. Allora, un bel bicchiere di vino rosso. Rosso. Mado, a temperatura ambiente. Anche, allora, a questo punto, visto che sono lucano, un aglianico. Io è buono per l'aglianico del vulto. Io è rosso o bianco? Io è rosso, io è rosso. L'aglianico. 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 L'aglianico è buono. L'aglianico. Non vogliamo bocchino d'aglianico e poi festeggiamo... Festeggiamo... E pace in tutto il mondo. Agli uomini di buona volontà. Di buona fede. Vogliamoci bene, che la vita non sono. Ah, ti saluta Emanuela, Miss Matera. Madonna, è bella di essere. Emanuela è stato un piacere. Almeno hai fatto un successo. Che qua, dice... Un giorno te la portano di lui. Però le persone, le persone... Dicono, ma è vero che così colà... È una bella donna. È una bella donna. Poi, dobbiamo visitare qualche altra donna. Scusa, questo fatto è vero che così colà. E poi sembra il terreno. Le donne. Che così colà. Vabbè, puoi. Vabbè, nel frattempo che è My Friend. Che My Friend sta parlando. Noi concludiamo questa puntata. E buona immacolata a tutta. E fate una buona mangiata di funghi. Ci vediamo sempre prossimamente. Ciao. 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 Grazie a tutti.